Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio, in A12 il code in uscita alla barriera di Rosignano Marittimo per traffico intenso e controllo della velocità nel tratto compreso tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione Rosignano, su raccordo Siena-Bettolle riduzione di carreggiata per lavori tra Castiglion del Lago e Ponte San Giovanni in entrambe le direzioni, sulla FIPILI fare attenzione per personale su strada per lavori tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze, sulla Statale 1 Aurelia senso unico alternato per lavori tra l'incrocio di Scarlino Scalo e quello di Stagno in tratti saltuari. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!